Buongiorno. Buongiorno. Ha un tavolo libero per 2? Avete una prenotazione? Purtroppo no. Ho capito. Per favore aspettate un momento. Vedrò se ci sono tavoli liberi. Al momento abbiamo un tavolo per due. Un posto vicino alla finestra, va bene? Certo. Ottimo. Seguitemi per favore. Ecco il vostro tavolo. Tornerò in pochi minuti. Gradite qualcosa da bere per cominciare? Vorremmo due bicchieri di acqua con ghiaccio e limone, per favore. Grazie. Ecco le bevande. Siete pronti per le ordinazioni? Siamo indecisi. Potrebbe consigliarci qualcosa di speciale? Consiglio la specialità del nostro chef. Anatra arrosto con mele e mirtilli rossi e gnocchi di patate. Bene, lo prenderemo. Ottimo. Il tempo di attesa è di circa 20 minuti. Gradite assaggiare il vino della nostra cantina? Il vino rosso secco si sposa perfettamente con l'anatra. Mio marito guida purtroppo. Ma mi piacerebbe assaggiarlo. Certo. Capisco. Tornerò in un minuto. Ecco il vostro ordine. Buon appetito. Grazie. Possiamo ordinare subito il dessert. Assolutamente. Consiglio la torta di mele calda con gelato. Fantastico. Cosa ne pensi amore? Sì, mi piace. E due caffè per favore. Va bene. Tutto bene? Sì. L'anatra era deliziosa. Grazie per il consiglio. Sono molto contenta. Dirò allo chef che vi è piaciuto. Vi porto il dolce tra un attimo. Fantastico. Volevo solo chiedere dov'è il bagno? Il bagno è vicino all'ingresso, sul lato sinistro della guardaroba. Grazie mille. Ecco il dessert. Grazie. Vorremmo chiedere un conto. Certo. Pagherà con carta o con tanti? Con carta. Porto il conto. Ottimo. Grazie mille. Ti piace tesoro? È un po' troppo dolce per me. Sono d'accordo. Ecco il conto. Pagherà contactless o tramite PIN? Contactless. Grazie. Siamo stati lieti di ospitarvi. Grazie. Torneremo sicuramente. Non dimenticare la mancia. Giusto.